E' stato un S. Vecli a pubblicare in esclusiva il comunicato congiunto nel quale Usher e la moglie Grace Miguel, hanno annunciato la decisione di separarsi. Il matrimonio tra l'artista 36enne e la compagna 48enne è stato celebrato nel 2015 dopo un fidanzamento durato sei anni. Ecco il comunicato congiunto rilasciato dalla coppia. Dopo averci pensato tanto, abbiamo deciso di comune accordo di separarci come coppia. Rimarremo affettuosi amici profondamente connessi e che continueranno a sostenersi a vicenda nel corso delle prossime fasi delle nostre vite. L'immensa quantità di amore e rispetto che abbiamo l'uno per l'altra può solo crescere mentre andiamo avanti. Dal 2007 al 2009, Usher è stato sposato con Tameka Foster. Da lei ha avuto due figli. Usher e Raymond Viena Videli. Nel 2009 ha iniziato a frequentare Grace Miguel. A gennaio del 2015, il cantante ha fatto la sua proposta di matrimonio alla compagna. Si sono sposati a settembre dello stesso anno, trascorrendo la luna di miele a Cuba. Il matrimonio è giunto al capolinea dopo poco più di due anni. Secondo TMZ, la rottura sarebbe inaspettata. Una fonte, infatti, ha svelato al tabloid che solo la scorsa settimana i due erano stati avvistati insieme in un cinema di Los Angeles. Secondo US Vehicle, però, Usher e Grace Miguel condurrebbero vite separate già da due mesi. Chi se ne frega!